Buongiorno a tutti, giusto per fare velocemente il punto della situazione mercatini. Allora, domani 22 agosto c'è San Donato Milanese, parcheggio dell'Asami via Emilia, c'è Caorso in via Rome in piazza della Rocca, Caorso vicino a Piacenza, Acquiterme in piazza Ferraris, Adasti in piazza Alfieri, e io sarò lì se Dio vuole, se il tempo lo consente, Racconigi al castello di Racconigi, settimana prossima, sempre sabato Limbiate e Avarallo, Sesia in Corso Roma, poi c'è il mercatino dei Navigli a Milano, l'Alzaia Naviglio, c'è il mercatino di Chivasso, quello di Borgomanero e quello di Biella. Ci vediamo in giro, cercate di non fregarmi le occasioni, mi raccomando, ciao a tutti, buon weekend!